Sono molto felice di poter proseguire questa avventura in riva al Golfo dei Poeti proseguendo nel cammino che in due anni ci ha portato ad ottenere prima una storica promozione e poi un'incredibile salvezza in Serie A. Così Mr. Vincenzo Italiano dopo la firma sul prolungamento del contratto che lo legherà allo Spezia per altri due anni. Dapprima con un filmato emozionale diffuso attraverso i social media e poi con un comunicato sul sito ufficiale la Società Bianca ha annunciato nel pomeriggio di ieri il prolungamento del contratto che avrà scadenza nel 2023 con opzione per un altro anno a una cifra che si avvicina compresi bonus a un milione di euro a stagione. Limati gli ultimi dettagli e confermate le linee guida per il prossimo campionato il mister ha condiviso il progetto tecnico con l'amministratore delegato Nishantella e portato avanti da Andrew Ramsey mentre potrebbe essere Stefano Melissano già collaboratore di Mauro Meluso a fungere da figura di raccordo all'interno del nuovo organigramma societario. Insomma l'era Playtech parte col piede giusto. Prima i 15 milioni per il nuovo picco ora la riconferma del mister a ulteriore riprova della bontà del progetto della nuova proprietà americana. L'area tecnica lavorerà soprattutto su modalità di scouting avanzate, i cosiddetti algoritmi portate avanti da anni dal nuovo responsabile Ramsey con italiano maggiormente coinvolto anche nella scelta dei giocatori. E con soli 14 calciatori rimasti in rosa ci sarà molto da lavorare a cominciare dalla conferma del centrocampista Leo Sena. Da ieri il brasiliano è un calciatore a cui lotto a titolo definitivo con uno sconto rispetto al prezzo patuito in sede di prestito con l'atletico Mineiro. Radiomercato riporta invece come notizia di oggi l'interessamento per il portiere Provedel da parte del Palma con Zut destinato molto probabilmente a scalare le gerarchie riconquistando quel posto da titolare che doveva essere suo già l'anno passato.